Siamo in compagnia di Alfredo Scauzillo, Luxury Audio, che distribuisce alcuni dei marchi più rappresentativi della riproduzione audio senza compromessi come Estelon, Raido Acoustics, Goldmund, Cello, Pilium, Metaxos e tanti altri. Alfredo come sta andando per voi questa prima giornata del Roma ai Fidelity 2022? Una bellissima affluenza, soprattutto alle prima opera del mattino, l'apertura alle 10 e tanta gente, è sempre un piacere perché dopo il periodo brutto che abbiamo vissuto del Covid è sempre un piacere rivedere gli appassionati audiofili, gli amici della zona e quant'altro, quindi noto un bel interesse, devo dire la verità, un bello bello e siamo contenti. Quest'anno abbiamo portato l'altro marchio che distribuiamo in esclusiva per l'Italia che è Estelon, in questa sala abbiamo le X Diamond, modello 3V con medio e wufete in ceramica e tutti in diamante, pilotate con le seguenti elettroniche, elettore CD Burmester 061 e pre finale della Pilium Audio, marchio greco che siamo sempre nei distributori, il modello è il preamplificatore AES e il finale IASOMAS, stereofonico, due canali da 200 Watt. Tutto il cablaggio è della Citec, quindi altro marchio che noi distribuiamo per l'Italia, quindi capo di potenza Classic Legend Citec e capo di segnale pre e finale tutto Citec. Siamo rivenditori ufficiali del marchio Technics, siamo innamorati del marchio Technics e abbiamo portato i due modelli, il 12G e il famosissimo SL1000R, il top di gamma e li abbiamo messi lì in esposizione e poi abbiamo un po' di discografia, cablaggio e quant'altro. Alfredo, noi ti ringraziamo, ti auguriamo buon proseguimento e diamo appuntamento agli appassionati di Alta Fidelità dove e quando? Il prossimo appuntamento è Milano e sarà sicuramente un super successo perché per il pubblico mi venisse fantastico, per l'i-fi quindi vi aspettiamo e ascolterete qualche altra cosa di magnifico. Ovvero cosa porterete a Milano? Sicuramente top di gamma di Raido, qualcosa dell'altro marchio svizzero che distribuiamo della Goldmund, quindi abbiamo un po' di molta carne sul fuoco. Vi aspettiamo. Grazie mille Alfredo. Grazie a voi, arrivederci. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie a tutti